In questi giorni si sono riuniti a Marsiglia rappresentanti locali e regionali in occasione del summit organizzato dal Comitato Europeo delle Regioni. Visti gli ultimi avvenimenti legati all'invasione russa dell'Ucraina, i temi in agenda sono cambiati e gli interventi del summit si sono focalizzati sulla possibile annessione dell'Ucraina all'Unione Europea e sui milioni di profughi che stanno scappando dalla guerra, emergenza che le regioni europee si troveranno ad affrontare per i prossimi mesi. Chiara condanna per quello che la Russia sta facendo, noi pensiamo che su questo l'Europa debba essere molto chiara, forte. Io credo che l'Europa abbia trovato in questa terribile occasione la possibilità di manifestare la propria anima e un maggiore spirito di solidarietà che abbiamo condiviso tutti e sta emergendo. Riflettere insieme su questo dramma dell'Ucraina è questa prospettiva di guerra che diventa un'ombra su tutta l'Europa. Io ho visto nella mia città, ma in tutte le città d'Italia, dal sud al nord, ma posso dire la stessa cosa, è spontanea la volontà della gente comune di aiutare le famiglie ucraine. Rispetto alla crisi ucraina si è da subito mobilitato il mondo del volontariato, quindi attraverso una raccolta di farmaci, alimenti e indumenti che sono già stati spediti e che verranno spediti nel corso del tempo. Quello che sta succedendo in Ucraina ci fa capire che c'è bisogno di più Europa, di un'Europa diversa, più caesa, più forte, capace di affrontare le sfide che la storia e la cronaca oggi ci mettono davanti. Questa è una guerra che ci sta colpendo tutti in maniera forte da un punto di vista emotivo, a prescindere da quanti sono gli ucraini che abbiamo all'interno delle nostre comunità. E quindi la solidarietà che stanno manifestando i cittadini italiani, i cittadini delle nostre comunità è grandissima, sia da un punto di vista di donazioni, donazioni economiche, donazioni materiali, di cibo, vestiti, sia da un punto di vista anche di accoglienza messa a disposizione di alloggi. Il meeting era stato programmato per firmare il Manifesto di Marsiglia, un documento focalizzato sulla ripresa post-Covid nell'ottica della sostenibilità per reagire all'emergenza climatica e alla crisi della sostenibilità. Un manifesto futuristico, un manifesto che rafforza i rapporti tra le città e le regioni. Questo manifesto andrà oltre modo a sottolineare l'importanza di un processo bottom-up che deve partire dal basso per l'Europa che verrà in uno scenario successivo alla pandemia in una speranza di ripartenza.